Un'ambulanza super accessoriata e di ultima generazione per il pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella è stata inaugurata dall'assessore regionale alla sanità e servizi sociali Manuela Lanzarin e dal direttore generale dell'Ulse 6 Domenico Scibetta. Destinata al servizio di emergenza territoriale su M118 l'ambulanza nuova di Zecca rappresenta il top del soccorso su ruote per quelle situazioni in cui velocità, tempestività ed equipaggiamento di alta qualità possono fare la differenza.